Buongiorno, benvenuti. Benvenuti alla nostra rassegna stampa, quella di mattino 6. Ovviamente daremo uno sguardo ai quotidiani, non solo regionali ma anche nazionali, partendo con le prime pagine per poi andare sulle pagine interne per vedere, per scoprire come i quotidiani oggi aprono e quali sono le notizie principali che riguardano la nostra regione, ma non solo. In questa prima parte come di consueto spazio alle prime pagine, allora cominciamo ovviamente dai quotidiani di casa nostra per poi fare un salto sul nazionale. Iniziamo dalla prima pagina del Messaggero, edizione ovviamente dell'Abruzzo. C'è spazio anche per gli attentati di Londra che hanno riguardato un nostro corregionale. Allora vedete questa è la prima pagina, l'apertura a centro pagina, io nell'inferno di Londra. Marco Zappalorto, teatino di 32 anni, si trovava nel Boromarket con gli amici e racconta, mi sono nascosto dietro una fioriera e ho visto la polizia arrestare una persona. Il racconto di questo sopravvissuto scampato all'attentato che ha colpito nel fine settimana proprio la capitale inglese. Non solo attentati di Londra, perché come vedete c'è spazio anche per questo fenomeno del Blue Whale, sequestrati, i PC della ragazza, consigli di morte. I carabinieri cercano il suggeritore. Accanto a Castellisangro due notizie di cronaca, anziano picchiato dai rapinatori è ancora gravissimo, a Pescara si vendica della ex con le foto intime. Pensate, postate sul profilo Facebook, una moda purtroppo sempre più attuale. In alto Pescara, aereo precipitato, 80 feriti, maxi esercitazione all'ospedale Santo Spirito. A Lanciano il vice sindaco Pino Valente ha ricoverato in rianimazione. E a Giulianova, notizie di cui abbiamo parlato anche qualche giorno fa, notti con la mamma in auto e allora il bambino finisce in ospedale. Scorriamo ancora la pagina per vedere che non c'è solo un ragazzo di Chieti che è stato coinvolto indirettamente nell'attentato di Londra, ma c'è anche un pescarese ferito nella calca a Torino. Il cosiddetto effetto Aizel, un gruppo di studenti in piazza San Carlo per vedere sul maxi schermo la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. E poi quel falso allarme bomba su cui gli inquirenti stanno indagando, dando via ai primi interrogatori, coinvolto dunque anche un ragazzo di Pescara. In basso a Chieti, in bilico sul balcone, lo vedete salvata in extremis. Questa è la prima pagina del messaggero. Vediamo le quattro edizioni all'ora del centro. Partiamo con l'edizione di Pescara e ovviamente ritroviamo la notizia pubblica online nelle foto Osei della ex arrestato un cinquantenne che aveva creato un falso profilo Facebook con il nome di lei per farla molestare. In alto oltre 1500 feriti, ci riferiamo ovviamente al panico che si è scatenato in piazza San Carlo a Torino, tre gravi. I tifosi abruzzesi raccontano quanta paura in quella piazza. A fianco il terrore a Londra, caccia alla rete di killer, bilancio sette morti. Il premier britannico Teresa May dice basta ora è troppo. Premier che ha confermato le elezioni tra tre giorni, venerdì 8 giugno, dunque si vota in Gran Bretagna. Nelle cronache, a lato i senegalesi sfrattati, allora andiamo a Montesilvano, non siamo delinquenti. E poi la fotonotizia. Eccellenze d'Abruzzo alla scoperta dell'ospedale veterinario. Cari animali, il consiglio, ma più per i padroni che per gli animali, ovviamente. Curatevi a Teramo, interventi chirurgici, inseminazione e risonanza, essenza. Liste d'attesa a Pianella, rintracciato 96enne che era sparito dall'ospizio e per il calcio pescara via alle grandi manovre. Ecco la ricostruzione ispirata da Zeman, ovviamente nel mirino dei giovani che siano promettenti. Che è un po' il leitmotiv di tutte le campagne acquisti del tecnico Boemo. Questa è l'edizione di Teramo, ovviamente la parte alta è identica ma l'apertura. Musica alta, il Duomo è a rischio. Teramo, la curia, affida controlli sul campanile e chiede un utilizzo diverso della piazza. Nelle cronache a destra Scarafoni, la dirigente fa vincere i soliti amici. Questa è l'inchiesta che riguarda ovviamente le presunte tangenti. A Silvi esplode invece l'emergenza e parcheggi. E poi in basso lo sport, ma qui invece di pescara parliamo del Teramo. Speranza, pilastro della formazione bianco-rossa. Il capitano è confermato con un contratto anche lungo e dice la salvezza. Questa salvezza centrata dal Teramo domenica scorsa contro il Lullo Mezzane, dice ci rilancerà. Andiamo all'edizione che riguarda l'Aquila e la provincia dell'Aquila. Progetto case, l'Europa batte cassa. L'Aquila, l'Unione Europea, rivuole indietro 350 milioni di euro. I nostri soldi non andavano utilizzati. Nelle cronache, movida violenta all'Aquila, rissa per una ragazza, un giovane ha perso un occhio. In basso, calcio di serie D, Chiodi. Siamo pronti a cedere l'Aquila ed è una vicenda che va avanti già da qualche settimana. L'eventuale passaggio di proprietà dalla cordata che faceva capo a Corrado Chiodi ad un'altra. A Sulmona invece c'è la cronaca scontro autobici. Purtroppo non è una novità. Grave il prof. In prognosi riservata un noto docente universitario. Infine chiudiamo con le prime pagine andando a vedere quella di Chieti e della provincia, che riguarda dunque anche Lanciano e Vasto. Ex Carichieti, niente rimborsi. Dopo un anno e mezzo, 734 famiglie di obbligazionisti aspettano ancora gli indennizi. A Lanciano, errori nelle tariffe rifiuti. Chi ha sbagliato deve pagare. A San Salvo, Riviera a secco, la Sasi non dà spiegazioni. E poi una notizia, se vogliamo, abbastanza di sport clamorosa, ma poi neppure tanto, perché alla Vastese ritorna Colavitto. Il tecnico pronto al rientro per il Chieti, che ha vinto il campionato di promozione, promosso in eccellenza, restano Lalli e Catalli. Una squadra che ovviamente punterà anche ad un campionato, quella nero-verde, di alto profilo, anche nel massimo campionato regionale. Ma la notizia è che Colavitto, dopo l'allontanamento di qualche settimana fa, per dar spazio a Massimiliano Favo, evidentemente ritorna il tecnico che era stato, appunto, sulla panchina bianco-rossa, prima dell'esonero. Adesso ci spostiamo sui quotidiani nazionali. Avendo dato un primo assaggio di quelle che sono le notizie di casa nostra, andiamo sui quotidiani nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera, vediamo il titolo centrale, che riprende un po' quello che avevamo detto, le parole del premier inglese Teresa May, troppo tolleranti con gli estemisti. La premier May cambia la linea sull'islamismo radicale. Dice adesso basta. 12 arresti a Londra Est. Sette morti, 21 feriti sono gravi, uccisi tre assalitori. L'Isis rivendica l'attentato a Manchester. Invece 50.000 persone al concerto per le vittime. Andiamo in alto e riviviamo, di fatto, ripercorriamo il panico a Torino e il ragazzo con lo zaino, che è quello che vedete nella foto cerchiato di rosso, che è il ragazzo che si cerca. I tifosi del video sono stati interrogati e dicono. È stata una bravata, davvero incredibile quello che è successo. In basso, la legge elettorale. Elezioni si cambia, no ai capilista blindati. Questo nuovo accordo a quattro in commissione precedenza agli eletti nei collegi uninominali. Questo è un argomento, quello della legge elettorale, che ovviamente trova spazio sui quotidiani nazionali. Questo proporzionale basato molto su quella che è la legge elettorale tedesca. La stampa quotidiana di Torino, ovviamente, ampio spazio ai fatti di piazza San Carlo caccia i colpevoli. A Torino, dopo la debacle per la psicosi terrorismo durante la finale di Champions, gli ospedali hanno esaurito ago e filo per le suture. In questura i primi sospettati per il procurato allarme. Le bottiglie di vetro non erano vietate. E poi, ovviamente, l'opinione, ecco perché serve chiarezza. Nei servizi interni, il nostro bimbo, ed è la ricostruzione dei genitori del piccolo cinese ancora in reanimazione, è sepolto vivo dalla gente impazzita. E nella notte, porte aperte ai feriti, entravano ovunque, dicevano, è un attentato. Spazio, ovviamente, anche ai fatti di Londra. La pista dei killer pakistani. Il califo lancia l'intifada d'Europa. Mattatoio urbano, sette i morti. L'Isis rivendica l'attentato, il terrorismo nelle pagine interne e solo la punta di un iceberg. E poi un voto, quello del prossimo 8 giugno, che riguarderà appunto la Gran Bretagna, per decidere come vivere. Di spalla, vediamo a Napoli, De Mita prova a rifare la balena bianca. Dalla stampa ci spostiamo sulle colonne della Repubblica. Alcol, bottiglie, ultra, lo scandalo di Torino. 1.527 feriti, grave un bimbo, critiche a comune e questura. Due ragazzi interrogati. Minniti dice combattere la psicosi e la polemica. In piazza San Carlo c'è stata, di fatto, la catena degli errori. Di fianco la fotonotizia che riguarda il concerto di Manchester. La musica di Manchester, non paura, solo amore. Mai, pronta a norme speciali, dice c'è troppo odio sul web. E poi, invece, sulla legge elettorale, l'opinione di Rosi Bindi sul modello tedesco, altri passi avanti, ma la Bindi attacca. Non è più il mio partito democratico. Libero, che invece interpreta in un modo particolare il delirio di Torino, ci siamo fatti l'attentato da soli. Oltre 1.500 feriti, alcuni gravi, mentre assistevano in piazza a Juventus e Real Madrid. Tutto è nato da una bravata che ha gettato la folla nel panico. Polemiche sulle misure di sicurezza. Il Movimento 5 Stelle scarica ogni responsabilità, ma la Appendino era a Cardi. Fra Appendino, sindaco di Torino, peraltro sulla vicenda e sulla figura del sindaco Appendino si è scatenata anche una polemica con un senatore del Movimento 5 Stelle che aveva dato in un primo tempo con un post su Facebook, aveva detto che i numeri dei feriti erano farlocchi, poi ha chiesto scusa. Di spalla, vediamo, proprio sempre sulla vicenda di Torino, l'opinione di Vittorio Feltri e anche quella di Renato Farina. Purtroppo i molli prima o poi finiscono schiacciati dai duri, impreparati al peggio, scrive Vittorio Feltri. Per Renato Farina il problema è in casa Allah, le stragi finiranno quando i musulmani isoleranno i jihadisti. Polizia scatenata a Londra, tre islamici seminano morte abbattuti, la tolleranza è finita. E poi la politica, nessun inciucio con Renzi, Maria Stella Gelmini di Forza Italia risponde a Salvini, stiamo insieme. E poi in basso, Gianluigi Paragone parla, torna sulla finale di sabato sera, noi juventini perdiamo, perché troppo legati al potere, la vera maledizione, invincibili in patria, provinciali fuori. Spazio anche alla MotoGP, al Mugello, con il triplete azzurro, tre vittorie nelle tre classi, il triplete lo fanno i vittori, i piloti, perdone, italiani, vittorie per Dovizioso nella MotoGP, per Pasini nella Moto2, per Migno nella Moto3. La legge elettorale, i nuovi collegi, sono del 1991. E poi parla Sacconi, il PD ha paura di Gentiloni. Il giornale, vince la paura, i 1500 feriti di Torino, effetto collaterale dell'ISIS. Londra si sveglia, tardi, basta tolleranza, terrorismo islamico e psicosi. Nella foto, i civili, una foto di una ragazza scampata all'attacco sabato sera di Londra. E poi, a lato, nella colonna di destra, nella City, come Arracca, l'Europa delle Moschee e il Nuovo Medio Oriente, coltellate alla folla, in tre contro una donna, il vero volto della Jihad. In Inghilterra, alla deriva, il buonismo ha creato il Regno Unito di Allah. In Italia, 1700 eventi blindati, l'estate prima del voto, preoccupa il Viminale, il Ministero dell'Interno. Lo psichiatra, c'è anche l'opinione dello psichiatra De Rosa. Più vediamo attentati, più ovviamente ci divora l'ansia. Sono tutti i servizi interni al giornale che ampliano lo spettro sui fatti di Londra. E poi, in basso, la legge elettorale, Tedeskellum, ritoccato, l'accordo tiene, intesa tra PD, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Lega, saltano i capilista bloccati. Questi i lavori della Commissione Affari Costituzionali, che ha lavorato anche ieri. Il fatto quotidiano, in alto, Londra e Torino. Londra con il terrore e sette morti nelle urne. Il vero attentato, attacco a London Bridge, dodici arrestati, e poi il finto attentato a destra, quello di Torino. Psicosi e vetri rotti a terra, 1500 feriti. Nelle indagini, lo vedete, quel giovane a torso nudo ha causato il caos ed è il ragazzo che si cerca, che gli inquirenti cercano. Falle nella sicurezza durante la partita. A centropagina, Prodi, che dice, sono vicino al PD, ma se Renzi si mette con Berlusconi, io vado altrove. il professore consiglia a Bersani, errore andarsene e a Grillo, scelga tra destra e sinistra. In basso, vi è inominati un successo, ora teniamo il doppio voto. Toninelli, il Movimento 5 Stelle replica alle obiezioni sollevate dal Fatto Quotidiano. Storia di copertina, nella foto, i nostri mari, una giungla tra bandiere e golette, bandierine e golette alla ricerca del blu, ovviamente. questioni che diventano di attualità mano a mano che ci avviciniamo all'estate. E poi in basso il calcio, perché vincere non è l'unica cosa che conta. La Juventus, ovviamente si parla della Juventus, un consiglio al presidente Agnelli. Il messaggero, Londra si ribella, basta tolleranza. La May, dopo la strage del London Bridge, abbiamo sopportato troppo. Ora si cambia, più poteri ai servizi, sette le vittime dell'attacco identificati, tre killer uccisi, un inglese, un pakistano e un marocchino. E ovviamente adesso scatta la caccia alla rete. L'Isis, colpi di coda, scrive Alessandro Orsini, in agonia dichiara guerra agli inglesi. Accanto, Torino, il panico nella piazza, la bravata del finto kamikaze, che è il ragazzo che vedete cerchiato di rosso e che mentre la gente come vedete scappa, resta fermo immobile con le braccia allargate. I feriti durante la Champions sono 1527. In basso, a centropagia, si torna sulla questione Londra, perché l'Inghilterra va al voto giovedì effetto jihadisti all'elezione di possibili sorprese. Sulla sicurezza in Italia, il ministro dell'interno Minniti ai prefetti blindare le piazze stretta del Viminale su 1720, piani di evacuazione per i megaconcerti e ce ne sarà uno che è quello di Vasco Rossi in cui si prevedono veramente tantissime migliaia di persone ed è ad alto rischio. Legge elettorale, noi capillista bloccati, piccoli partiti sulle barricate, i lavori procedono a rilento. Il focus, la corsa all'elezione sicura con il listino proporzionale. Il tempo, attacco di panico, Inghilterra, sesto attentato in un anno, si pagano ancora i danni del multiculturalismo. In Italia, strage sfiorata per la psicosi bomba e il segno ormai, scrive il quotidiano Il Tempo, che ormai viviamo nel terrore. Le due foto, Londra e poi la piazza di Torino, piazza San Carlo di Torino, sempre con l'evidenza puntata su questo ragazzo che si cerca, che potrebbe essere stato il responsabile del scatenarsi dell'attacco di panico. Soldi pure a Plauto e Ovidio, tutti i regali del Parlamento, il Senato pronto a stanziare 9 milioni per celebrare i due classici, fondi assegnati anche a orchestre inesistenti e scorze da grumi. e ci costano pure con i pensatoi. I think tank dei politici sono più di 100. E poi nei vari box la strategia del leader di sinistra, Pisapia, che saluta Renzusconi in una crasi tra Renzi e Berlusconi e i Dem vanno nel panico. La nuova legge elettorale, addio ai capilista bloccati e diminuiscono i collegi. Cespugli in lotta per sopravvivere determinanti ma a rischio è davvero una nemesi per i piccoli partiti che dovranno ovviamente confrontarsi con questa nuova se sarà legge elettorale. Londra l'orrore in casa la mattanza le vittime sono sette qui siamo sul secolo XIX gravissimi 21 degli accoltellati pista pakistana uno dei killer fu segnalato l'Isis rivendica in alto i fatti di Torino bilancio finale 1527 i feriti caccia i colpevoli del caos il comune non aveva vietato le bottiglie di vetro di spalla collegi blindati e via i capilista la legge elettorale va a passo di carica i partiti accelerano e poi privati e alleanze Ilva e Fincantieri il giorno della verità in piazza gli operai di Cornigliano il dossier i tassisti genovesi diventano detective e denunciano 80 abusivi nella foto il concerto di Manchester è in onore appunto non solo delle vittime di Manchester ma ovviamente con una parte anche rivolta alle vittime dell'attentato di Londra il gazzettino quotidiano del nord-est May va alla guerra ora basta dice il premier britannico 7 morti e 48 feriti rivendicazione dell'ISIS la premier misura durissime contro l'estimismo islamico la strage uccisi 3 terroristi 12 arresti caccia i complici Trump attacca il sindaco di Londra un pericolo dice che è stato sottovalutato in alto sangue urla andiamo a Torino ecco come siamo usciti dall'inferno oltre 1500 feriti abbiamo visto che sono 1527 i feriti in piazza San Carlo tra la folla in fuga per lo scoppio di un petardo e a fianco la polemica appendino nel mirino controlli insufficienti e poche vie quelle di fuga in Italia ovviamente resta allerta massima minniti ci sono 1700 eventi che sono a rischio il mattino quotidiano di Napoli l'ira di Londra basta tolleranza la MEI limite superato uccisi killer caccia i complici 12 arresti c'è la rivendicazione dell'ISIS assalto tra London Bridge e Borumarket tra i 7 morti anche passanti sgozzati 21 feriti gravi Trump dice bando anti-musulmani e poi ovviamente i servizi interni Torino invece controlli flop il caos che si è scatenato per uno scherzo e che davvero è costato carissimo ad alcuni della piazza piemontese la gazzetta del mezzogiorno Londra-Torino notte di terrore sette morti e tre giadisti uccisi nella capitale inglese la Premier basta in piazza San Carlo 1527 feriti nella calca gravi un bimbo e due donne e poi la politica saltano le liste bloccate arrivano i collegi blindati legge elettorale regge l'accordo A4 ma il clima resta teso questo per quanto riguarda i quotidiani generalisti nazionali adesso facciamo un salto prima delle previsioni del tempo anche sui quotidiani sportivi nazionali cominciamo dalla gazzetta dello sport a Legri c'è il Paris Saint Germain scrive la Rose a colpo di scena in casa Juventus dopo il crollo di Cardiff per rinnovare il tecnico chiede 8 milioni e due rinforzi da Champions e allora da Parigi arriva l'offerta di 10 milioni di euro e la Roma potrebbe andare su Unai Emery al centro Dovizioso Andrea Dovizioso che vince il Gran Premio del Mugello pilota più moto Mugello tricolore trionfano pure Migno e Pasini peraltro Andrea Dovizioso vince un italiano con una moto italiana come la Ducati in alto ovviamente si torna sui fatti che hanno riguardato indirettamente lo sport perché le persone accalcate in piazza San Carlo stavano vedendo Juve Real la folle notte di Torino 1527 feriti tre gravi strage sfiorata per una bravata il commento di Umberto Zabelloni non arrendiamoci a terrore e paura di spalla per Cassi il presidente dell'Atalanta rinforzo l'Atalanta tenendo i conti a posto Atalanta che giocherà anche l'Europa League nuovo Milan all'assalto a Morata diventa più difficile in campo scende anche Mourinho nuova Inter le mosse di Spalletti Perisic da ingabbiare e poi ci sarebbero anche le idee riguardanti Bernardeschi e Berardi il corriere dello sport ruba bandiera i cinesi vogliono strapparci il commissario tecnico della nazionale Giampiero Ventura una maxiproposta di Suning che è anche proprietario dell'Inter a Ventura per guidare lo Jiangsu la squadra cinese che il Suning detiene proprio in patria può rivoluzionare la panchina azzurra a pochi mesi dalla sfida chiave con la Spagna che ci sarà ad inizio settembre che vale i mondiali di calcio offerti 20 milioni di euro per due stagioni vedremo se Ventura si concretizzerà poi l'offerta e se Ventura la riterrà idonea in alto l'interrogativo Madibala è un top player o no? dibattito dopo il flop contro il Real Madrid da Messi a Cristiano Ronaldo da Cruyff a Maradona loro a 23 anni facevano già la differenza mentre lo Juventino sbaglia le sfide decisive in basso Golf l'Italia vince con il il Master svedese con il Baby Paratore che segna una vittoria da record MotoGP i fratelli d'Italia al Mugello trionfano nelle tre classi Dovizioso Pasini e Migno e vedete sulla sinistra in rosso Serie B primo spareggio per la promozione 0 a 0 tra Carpi e Benevento con il Benevento che avrà il ritorno in casa chiudiamo con tutto sport che si augura che i fatti di Torino non avvengano mai più la notte di paura provocata da troppi errori da misure di sicurezza insufficienti i responsabili del falso allarme avrebbero confessato il calcio tifa per il piccolo Kelvin Agnelli Agnelli ai feriti vi porto una promessa a Kiev dove si giocherà la finale di Champions League nel 2018 e dunque il presidente della Juventus promette che porterà chi è stato coinvolto a Kiev per un'eventuale altra finale dove con la Juventus in campo nei box è un'Italia esagerata al Mugello vince tutto successi di Migno in Moto3 Pasini in Moto2 Dovizioso con la Ducati in MotoGP completa la festa il terzo posto di Petrucci sempre nella MotoGP quarto Valentino Rossi paratore re di Svezia è uno sport per la Ryder Cup Golf European Tour il ventenne romano conquista il primo successo europeo un segnale importante in vista dell'evento che ospiterà Roma nel 2022 e poi all'interno Biglia e Rodriguez al Milan nella settimana decisiva suggestioni veronesi per Cassano e Balotelli Carpi Benevento senza gol pari il primo round per la Serie A invece in Lega Pro Pordenone Parma e Alessandria sono le quattro squadre che giocheranno dunque la Final Four queste le prime pagine dei quotidiani nostrani e nazionali adesso noi ci vediamo le previsioni del meteo poi pubblicità e poi entriamo all'interno dei quotidiani regionali seconda parte di mattino 6 entriamo adesso all'interno dei giornali regionali per sfogliarli per vedere quali sono le notizie principali di questo lunedì 5 giugno iniziamo con il centro con il primo piano sul terrore a Londra ed è come vedete caccia ai complici sette morti 21 sono in condizioni critiche un pulmino di passanti poi coltelli alla gola uccisi i tre killer e sull'altra pagina il premier Teresa May che annuncia adesso basta è troppo Lady Teresa promette lotta all'estremismo islamista Trump attacca Khan campagna elettorale che è sospesa per 24 ore ma il voto come vi dicevo prima è confermato per giovedì 8 giugno in basso il racconto uccidevano invocando alla notte del terrore nel racconto di chi era nelle strade intorno a London Bridge Story Street sotto shock chiuso il mercato fiori per le vittime nella zona dedicata alla Movida e ovviamente il risalto anche per i fatti di Torino si indaga per procurato allarme in un video spunta il volto del sospettato e di 1527 feriti tre gravi il bilancio del fuggi-fuggi di tifosi accalcati sotto i maxischermi per Juve Real il senatore del Movimento 5 Stelle Airola attacca dati farlocchi per infangare la giunta e poi però è costretto a scusarsi la storia paura e lacrime per Kelvin il bimbo in coma in ospedale a Torino in basso un boato le urla e poi l'inferno da Pescara a Teramo Cupello e Casalbordino i racconti shock degli abruzzesi che erano andati proprio nel capoluogo piemontese per assistere alla finale trasmessa sul maxischermo e dunque c'è il racconto anche di nostri corregionali legge elettorale blindati collegi via i capilista bloccati fuoco di sbarramento nei piccoli partiti si rafforza l'alleanza 4 il voto va rilento ma domani il testo arriva in aula mdp attacca siete ladroni e bagarre in commissione affari costituzionali a proposito del nuovo movimento Bersani oggi a Pescara per mdp targato Abruzzo l'ex segretario del partito democratico e poi entriamo proprio nei fatti di casa nostra con la notizia dell'eccellenza d'Abruzzo ecco l'ospedale veterinario salva mille animali l'anno teramo viaggio nella struttura sanitaria unica in Italia dove lavorano 71 professori con 5 sale operatorie risonanza laboratori e scuderia come posti letto e poi ci sono due corsi per oltre 900 ragazzi questi po' i numeri di questo ospedale veterinario a Teramo da pacco travolto da un'auto ci sono anche delle storie al sogno della cavalla giunone il caro investito guarirà in 4 mesi e la cavalla avrà un puledro campione niente liste d'attesa nell'ospedale veterinario i laboratori sono centri di eccellenza andiamo avanti sfogliamo altre pagine per andare a Pescara fotose della ex su facebook arrestato un 50enne crea un falso profilo della giovane con cui ha avuto una relazione per farla importunare da altri uomini il comandante dei carabinieri l'unica possibilità che hanno le donne per salvarsi dice è di denunciare il silenzio non fa altro che rafforzare chi perseguita sempre a Pescara Largo Madonna lite familiare in strada 74enne finisce in ospedale scendiamo a Pianella ritrovato il 96enne che si era perso si era allontanato dalla casa di riposo rintracciato a poco più di un chilometro di distanza corso Umberto ferito un pedone urtato dall'ambulanza e poi sensi unici cambia la viabilità al villaggio Alcione in basso le novelle di Pescara il concorso oggi ci sarà la premiazione e poi l'esercitazione è caduto un aereo scatta l'emergenza ma è solo per finta prove di soccorso all'ospedale civile Santo Spirito con 200 operatori in 70 interpretano morti e feriti truccati e anche devo dire abbastanza bene dalla croce rossa e qui le foto di questa esercitazione penne addio commosso a Maria folla al funerale dell'81enne investita in tanti anche a Farindola che è il paese natale di Maria Lacchetta andiamo avanti la protesta fermo pesca a settembre gli armatori in rivolta la proposta viene contestata dalla categoria così si favoriscono i palangari convocato per sabato un incontro con i rappresentanti delle altre marinerie il riconoscimento a Pescara e Montesilvano ecco la delegazione dei pediatri italiani che ha consegnato la bandiera verde Madonna dei Sette Dolori folla di fedeli ai colli per la processione e poi invece a Loreto a Prutino festa per il bue di Sanzo Pito in ginocchio davanti alla folla una tradizione tipicamente loretese emergenza sociale a Montesilvano torniamo su quella che è stata la notizia principale dei giorni scorsi dormiamo in spiaggia e non siamo delinquenti gli immigrati sfrattati dal ghetto di via Ariosto si sono riversati sul lungomare molti di noi sono nati qui ma ci hanno buttati per strada e adesso che cosa facciamo si chiedono oggi in Piazza Italia presidio di CGL rifondazione e ambulanti a Pescara si celebra la festa dei popoli era presente anche la comunità seregalese ridateci il mercatino dicono permetteteci di lavorare a Chieti ancora zero rimborsi dopo un anno e mezzo persi ovviamente si parla della questione cari Chieti persi 22 milioni di euro degli obbligazionisti 734 famiglie in ginocchio Rugeli del Codacons qui nessuno risponde siamo figli di un dio minore e poi a Chieti appesa al balcone viene salvata dai pompieri sempre nel box in un box più ampio Lancianao vicina al vice sindaco Valente che è stato ricoverato in rianimazione in basso a Torino di Sangro cade dalla moto e si frattura il polso coronaca e poi Capriolo San Salvo Capriolo ferito trovato vicino al mare all'Aquila l'Europa rivuole 350 milioni la Corte dei Conti dell'Unione Europea il progetto case non doveva essere fatto con i soldi nostri si tratta come vedete di uno sperpero miliardario così c'è il titolo in alto in rosso Movida Violenta giovane sfregiato a un occhio nella lite per una ragazza in basso scontro autobici grave un docente sul Mona incidente a un incrocio della statale 17 il 66enne Tommaso Paolini è in prognosi riservata a Teramo Duomo controlli sul campanile può danneggiarlo la musica alta il vescovo affida a un tecnico il monitoraggio della torre e avverte il comune ci deve essere rispetto per tutti l'uso della piazza andrebbe meglio calibrato abbiamo dovuto dire dei no di spalla a Silvi viabilità difficile e emergenza ai parcheggi per via dei lavori a Giulianova ha fatto vincere i soliti nomi amici suoi mazzette a Giulianova intercettazione sulla Mastropietro di uno dei fratelli imprenditori arrestati e adesso andiamo avanti per vedere le pagine dello sport lo sport del lunedì Pescara via alle grandi manovre parte la ricostruzione ispirata da Zeman nel mirino anche i giovani Muratore e Valietti di spalla Lega Pro le parole di speranza Teramo uno dei punti fermi e appunto il capitano biancorosso e poi nei box in basso notizie dei dilettanti serie di il DS De Filippis io vi ad avasto l'ho letto solo sui giornali eccellenza Francavilla insegue il sogno dell'AD il tutto si decide domenica in prima categoria il piazzano vince e festeggia il salto in promozione in basso sport e beneficenza nel trofeo Giorgio Arnea al Golf Club di Miglianico e accanto Giovanni in campo al Poggio degli Olivi che festa per il Memorial Vittorio di Matteo e allora vediamo proprio il mercato che riguarda il Pescara mercato bianco-azzurro Muratore Valietti linea verde del Pescara nel mirino il poliedrico capitano della Juventus primavera invece per quanto riguarda il settore giovanile a breve l'annuncio sui tecnici la primavera potrebbe essere affidata a Emanuele Pesoli che è stato qualche stagione fa difensore proprio della formazione bianco-azzurra prima di terminare di fatto la carriera da calciatore all'Aquila in basso Serie B Pari Benevento la Serie A si avvicina a Carpi la finale d'andata finisce 0-0 giovedì a Baroni basterà non perdere per guadagnarsi il salto nella massima serie Baroni ex tecnico proprio dei bianco-azzurri da 18 al 23 giugno l'Abruzzo ospita il campionato nazionale dei medici quindicesima edizione di questo torneo di calcio e poi c'è l'intervista che riguarda proprio uno che è stato di fatto cresciuto e che Zeman ha lanciato Roberto Rambaudi nel Foggia dei Miracoli insieme a Baiano e Signori allora Rambaudi lancia il Delfino con Zeman si punterà in alto l'ala destra ex ala destra di Foggia e Lazio sul mercato i dirigenti seguono le indicazioni di Zeman ai giovani che arriveranno consiglio di sfruttare la chance sotto la guida del Boemo e dice con lui a livello mentale può succedere di andare in crisi se non ci sono giocatori pronti al sacrificio lo spogliatoio potrebbe essere appunto contagiato in basso negli allievi Angolana pareggia Brindisi la Final Six Scudetto è più vicina e per i giovanissimi poker della Fabrizio Micoli Lecce San Nicolò che fuori dopo aver vinto la fase regionale fuori dalle fasi nazionali Lega Pro adesso Teramo Speranza il punto fermo del futuro Teramo già sei anni in bianco rosso resterà il leader della difesa e dello spogliatoio l'intervista al difensore perdere l'abbia è stata una mazzata e ci siamo portati dietro quello strascico la svolta prima del match con il Gubbio ci siamo detti davvero tutto nello spogliatoio in basso Ezio Volpi ecco il ricordo del mago della serie C ovviamente parliamo di Chieti Ezio Volpi a cui è dedicata la curva dei tifosi della tifoseria organizzata a Nero Verde l'ex tecnico del Chieti del Francavilla e del Giulianova raccontato in un libro da Franco Zappacosta in serie D il DS Micciola e Colavitto area nuova per la Vastese in casa Bianconossa si profila un clamoroso ritorno dell'allenatore campano De Filippis un divorzio amaro lo saputo dai giornali stagione da chiudere in alto Chiodi siamo decisi a cedere l'Aquila a San Nicolò invece la situazione è di stallo il nodo del tecnico Epifani potrebbe andare via Epifani che è stato anche accostato alla panchina del Teramo la neopromossa parliamo del Nerostellati Pratola Di Marzio e il suo vice Pulsone preparano la rosa dei Nerostellati e non sarà affatto semplice in un campionato competitivo come quello della serie D ad Avezzano Paris incontra il tecnico Alessandro Delgrosso con una panchina ancora da assegnare a Pineto invece si riparte il 24 luglio ci saranno più giovani nella rosa e nella foto come vedete il direttore generale Roberto Gianmarino playoff nazionali di eccellenza l'andata Bonfrancavilla 0-0 contro il Fabriano Cerreto domenica la sfida che vale la serie D la squadra di Montani impone il ritmo ma è solo pari Rodia spreca una buona occasione in casa del Fabriano dall'altra parte le big della prossima stagione Chieti e Giulianova a Chieti restano i bomber Lalli e Catalli nel Chieti di Aielli l'altro attaccante Carosone potrebbe fare le valigie il portiere falso in uscita si lavora per trattenere Felli a Giulianova Fuschi via ipotesi stacchiotti il sogno rimane pedalino mentre in basso il portiere D'Amico si trasferisce al Penne Spareggi Playoff Piazzano vince vola in promozione Fater Capo e Sangrini Festa Piano della Lente Sant'Anna e Sportland Celano in corsa per centrare il salto di categoria Trionfo della Procelano sull'altra pagina con la forza del gruppo Vediamo rapidamente il motociclismo Festa al Mugello per il triplete tricolore Iannone in alto c'è ma è solo decimo accanto il rugby l'Aquila c'è uno spiraglio per salire in eccellenza questo per quanto riguarda insomma calcio e non solo ci spostiamo sul basket A2 e Serie B Casa Grande dice sarebbe bello restare a Roseto il giocatore torna in città per il raduno della nazionale 3 contro 3 sotto contratto invece ad Ortona restano solo Gialloreto e Castelluccia in basso l'amatori va alla ricerca di soci e sponsor se non arrivano altri capitali Pepe potrebbe essere ceduto Raiola deve decidere invece se continuare a Chieti questione Proger appena retrocessa Galli dice forse non ero io il problema del Chieti l'ex coach Biancorosso parla per la prima volta dopo l'esonero e il futuro il presidente Gianni Di Cosmo potrebbe lasciare il sodalizio Teatino in Serie C Silver il Silvi si arrende al Nardò domenica ultima gara contro il Sarno la Marathon degli Stazzi parliamo di ciclismo al Lucano d'Agostino mountain bike corsa la memoria di Caranfa per il circuito sentieri e sapori assegnate a scanno i premi ai campioni regionali della federazione ciclistica in alto a Fara San Martino Borgese e Quintili si aggiudicano la Gran Fondo di Spalla Benedetti conquista il Memorial Lunelli il Dittico invece va a Garofalo Alessandro Petacchi ospite di prestigio a Pineto che dice per ripartire ci serve un campione l'ex sprinter parla del ciclismo italiano che è un po' in affanno le gare di Polismi in Abruzzo corsa del Gran Sasso tutti dietro a Raya il notaleschino precede Maier e Di Gregorio ai prati di Tivo e poi sempre per il podismo Perpetuo Trionfa nella seconda Ovidio Running dalle colonne del centro ci spostiamo adesso su quelle sempre pagine regionali ma del messaggero dell'Abruzzo che apriamo per controllare quelle che sono le notizie principali della giornata di oggi ovviamente come avete visto c'è ampio spazio per per lo sport anche se diciamo i campionati sono fermi e non c'è in questo momento c'è solo ci sono solo le appendici finali della delle varie categorie anche di altri sport allora cominciamo con ricominciamo con pescara colonne del messaggero noi travolti dall'onda umana nell'inferno di piazza san carlo il racconto di uno studente di pescara presente a torino con dieci amici correvano tutti pensavamo ai terroristi e poi di spalla il disastro aereo simulato con 80 feliti per la maxi esercitazione in ospedale in basso anche un falso profilo facebook per perseguitare la ex un 50enne come detto è stato arrestato zuffa invece tra ambulanti ai colli anziano colpito da un calcio si tratta come vedete di una festa rovinata all'aquila movida violenta ragazzo perde un occhio un 19enne aquilano aggredito per gelosia in piazza chiarino dal nipote di un pentito di mafia che risiede in città i presenti atterriti alla vista del sangue hanno deciso di avvertire il personale medico del 118 e le forze dell'ordine la foto primo memorial dedicato a paulone rossi svolto ieri allo stadio di acqua santa per l'indimenticata gloria del calcio aquilano rimaniamo sempre nel capologo di regione palazzo in via scarfoglio per il perito non fu usato il cemento depotenziato ovviamente non possiamo non parlare delle elezioni per il rinnovo del sindaco del consiglio comunale candidati sindaci domenica di confronti tra i vari contendenti progetto case silveri dove erano centrodestra e centrosinistra si chiede ad avezzano andiamo dalla parte di avezzano sul mona e ci focalizziamo su tagliacozzo caso di blue whale raffica di sequestri parla lo psicologo dopo l'intervento dei carabinieri che hanno sventato un suicidio collegato al gioco di moda tra giovani lo specialista dice in marsica non sono stati segnalati altri episodi ma abbiamo predisposto un decalogo sul nostro sito abruzzese sempre nella marsica scuole paritarie punteggio ok per le cattedre statali mentre sul mona lavoratori della satich stop all'occupazione scendiamo botte ai rapinatori a castel di sangro l'anziano resta grave muore a teramo primario dell'ospedale pienone in marsica riparte il turismo e poi a sul mona investito sulla bicicletta un noto docente universitario è in fin di vita a chieti il racconto io nell'inferno di londra in salvo dietro una fioriera marco zappalorto teatino di 32 anni si trovava proprio al boromarket racconto shock ero tra la folla terrorizzata in strada i poliziotti gridavano di fuggire accanto valente vice sindaco di lanciano in rianimazione resta alta l'apprezzione ovviamente per le sue condizioni licenziamento vasto sciartilli per il giudice si tratta di un licenziamento evidentemente illegittimo ad ortona scatta la messa in sicurezza della passeggiata orientale a Teramo Brucchi taglia tre assessori è il giorno della verità Antonini Guardiani Cozzi e Canzio i dissidenti si riunisca la maggioranza nella rosa di nomi di chi è in pericolo i dissidenti si riunisca la maggioranza vogliamo la composizione della giunta Usciamo per il momento dall'applicazione per tornarci immediatamente per tornare sulla pagina di Teramo vediamo a Giulianova l'auto al posto della casa il bimbo finisce in ospedale questo è il titolo della notizia di Giulianova che dice si aggravano le condizioni del piccolo che aveva dormito in auto con con la mamma e che le cui condizioni restano appunto gravi sono le 8 e 56 tra poco torniamo sui quotidiani sul quotidiano tra poco torniamo sul quotidiano il messaggero intanto diamo anche uno sguardo a quelli che sono le testate online iniziamo da prima da noi con la home page del sito che parla di Montesilvano la via Ariosto la speculazione edilizia dopo lo sgombero e l'inerzia progetto per abbattere c'è il refresh della pagina tra poco torniamo sgombero di via Ariosto soluzione senza soluzione e dignità ecco gli immigrati per strada tra valigie e nuovi accampamenti e poi come vedete c'è anche una parte legata alla sanità avviso pubblico lampo per dirigente sanità dopo Farinella arriva Farinella molto spazio per la questione di Montesilvano su Abruzzo web comuni italiani sforate patto di stabilità e strozzinaggio ora più spesa pubblica e poi le parole del sindaco Massimo Cialente che qualche giorno prima delle elezioni proprio nel capoluogo d'Abruzzo dieci anni dopo l'addio di Cialente 70 mila ancora qui e c'è un grande puzzle dice il sindaco dell'Aquila ancora per pochi giorni evidentemente progetto case ecco la norma pericolosa Sassoli tema italiano non più europeo verso l'inverno a forza di primavera e giovani e musica in una casa di riposo siamo ad Avezzano andiamo sulla home page di City Rumors come vedete cani salvati in Abruzzo diventano damigelle e pagetti al matrimonio e poi Pescara falso profilo facebook con le foto della ex arrestato per stalking martin sicuro ruspe in azione di notte per garantire il ripascimento Giulianova incendio di baracche vicino al depuratore di Villa Pozzoni e c'è il rischio come vedete che sia stato un incendio doloso ABR24 rissa la festa della Madonna tra aiutanti di due bancarelle un anziano in ospedale a Pescara scendiamo ancora biciclettata in bandiera blu grande festa a San Salvo per il Summer Festival Costiera dei Trabocchi calcio a 5 la Ruparense replica agli annascoli sulla questione di voler sospendere l'attività della prima squadra in polemica con le decisioni arbitrali di gara 1 la Ruparense la società veneta dice solo illazioni per condizionare il giudice sportivo adesso abbiamo credo ripristinato anche il messaggero eravamo sulla pagina di Teramo come detto Brucchi taglia tre assessori oggi è il giorno della verità Antonini guardiani Cozzi e Canzio nella Rosa dei nomi di chi è in pericolo i dissidenti si riuscano la maggioranza vogliamo la composizione della giunta l'auto la notizia vi leggevo prima ma non avevamo il supporto non potevamo farvela vedere l'auto al posto della casa il bimbo finisce in ospedale sempre a Giulianova tre rullotti incendiate si sospetta il blitz doloso in Val Vibrata passeggiate sul lungomare e spiagge prese d'assalto dopo tre anni di attese inaugurato l'ecomuseo del mare a Tortoreto per il commercio Canzio allo stilista Flocco che aveva minacciato di lasciare la città di Teramo dice città morta no ancora peggio è in coma e poi Abruzzo Sport Pescara gli errori serviranno ne parla l'ex ormai tecnico del Latina ex tecnico di Chieti e Teramo Vincenzo Vivarini a Latina ho imparato sulla mia pelle che la società è la cosa più importante e quella del Pescara è affidabile Zeman è ancora un allenatore al quale rubiamo qualche idea Insigne Junior ha qualità ma deve crescere le trattative piacciono Aramo e Parigini del Torino la presentazione con la Juve all'Adriatico un'eventualità la presentazione ufficiale del Pescara potrebbe essere una serata di grande calcio allo stadio Adriatico a margine dell'incontro da fissare tra Parotta e Maratici per la questione Coulibaly si potrebbe parlare anche di questa idea Iannone lotta al Mugello e arriva decimo con la sua Suzuki Lega Pro Teramo l'obiettivo è sfoltire la rosa presto un incontro con Nofri e Lupo per tentare un accordo per ovviamente la rescissione dei rispettivi contratti prima del mercato bisognerà definire il futuro di molti atleti che hanno appunto contratti pluriennali per la panchina è una settimana decisiva per scegliere il nuovo tecnico di spalla va stese il nuovo mister i tempi si allungano a metà settimana il nome dell'allenatore e del direttore sportivo Avezzano invece che vuole tornare dopo essere stato nel girone G vuole tornare nel girone F che è quello abruzzese a Pineto a Maolo alla ricerca di giovani promesse come vedete visionati anche 4 under l'Aquila giorni decisivi l'Aquila Calci ovviamente in settimana si può definire la cessione del club che chiuderebbe di fatto l'era chiodi ma per il momento si aspetta un'otizia più chiare sulla solidità del gruppo che evidentemente dovrebbe subentrare San Nicolò il futuro resta un'incognita con l'addio del DS Miciole con quello probabile del tecnico Massimo Epifani Calcio a 5 Pescara il giorno del giudizio oggi la sentenza del giudice sportivo sulla Rissi in gara 1 contro la Luparense volley a 2 Ottaviani Odolfo la scelta della Siercortona Francavilla un pari che avvicina la Serie D nella finale d'andata i giallorossi escono in deni 0-0 dal terreno del Cerreto controllando la partita senza grossi problemi e dando prova di personalità nel Real Giulianova si rivede Francesco Giorgini questa volta non sarà in panchina ma avrà un ruolo dirigenziale chiedi ecco chi resta e chi farà le valigie in eccellenza il Montorio conferma Michele De Feudis sulla panchina dopo la salvezza centrata e poi andiamo sulla pagina successiva Roseto basket una proposta di rinno per Sherrod il centro americano sta valutando la possibilità di restare comunque vada questa stagione e dice resterà indimenticabile al centro tennis internazionale di Pescara doppio trionfo olandese e poi sulla destra Raiola pensa all'addio devo decidere se andare avanti oppure no volle finale di studentese la carica dei 700 Zappacosta invece come abbiamo detto presenta un libro sulla figura di Ezio Volpi con questo noi chiudiamo questa rassegna Sampa di mattino 6 vi ricordo le edizioni del nostro telegiornale la prima alle ore 14 con le notizie principali della giornata mattino 6 ovviamente torna domani puntuale alle ore 8 buona giornata la prima di mattino 6 di mattino 6 di mattino 6 di mattino 6 Grazie a tutti.